E' una sconfitta con due risvolti della medaglia, alcuni buoni e alcuni negativi. Potendo tornare indietro cancellerei completamente il primo tempo della difesa, abbiamo fatto grandi errori sui placaggi, abbiamo sbagliato alcuni allineamenti e di conseguenza loro sono bravi e ci hanno giustamente punito. Nel secondo tempo sicuramente la squadra è cresciuta e sia l'attacco che in difesa abbiamo fatto sicuramente molto bene, d'altronde non si possono concedere 28 punti in un quarto, però guardiamo avanti, ci aspettano due partite che per noi sono fondamentali e come per i nostri avversari e per cui sicuramente avanti così, duro lavoro e vediamo cosa succede alla prossima.